In collaborazione con Ben trovati amici di Le Fonti TV con il nostro appuntamento mensile di Oltre la Barriera in collaborazione con BNP Paribas e allora lo leggete subito in sovraimpressione abbiamo cercato di mettere nero su bianco le parole chiave dei mercati di questo periodo collegate naturalmente con il tema degli investimenti e nello specifico caso del nostro format oltre la barriera certificato di investimento perché di questo si tratta. Bisogna un po' capire insomma qual è e com'è lo sguardo degli investitori in questo momento sicuramente di mercato ancora ricco di incertezze e di punti interrogativi. Lo scopo della nostra trasmissione è questo oltre a dare dei suggerimenti su alcuni strumenti da osservare più da vicino. Allora io saluto subito Luca Comunian di Solutions Sales di BNP Paribas. Luca ti ritrovo con molto piacere, grazie per essere con noi. Grazie a te, grazie a voi, buonasera a tutti. E salutiamo anche Pierpaolo Scandurra, certificati derivati, che ci aiuterà in questo compito gravoso. Ciao Pierpaolo, sempre utilissimo anche tu, grazie per la collaborazione. Grazie a te Emanuela per l'invito e buonasera. E allora mercati tra inflazione e rialzo dei tassi, come valutare gli investimenti? Ovviamente questa è una premessa molto ampia ma cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio. Pierpaolo, se sei d'accordo, parto da te perché sono certa che riuscirai a darci una fotografia del periodo, cioè un po' la ricerca degli investitori, su cosa si concentra, quali sono i riflettori più accesi, quali sono le parole che gli investitori stanno sottolineando maggiormente in questo momento. Certamente l'incertezza continua a dominare questo 2022 al punto che probabilmente la parola più utilizzata anche quando gli investitori vengono a cercare da noi un po' di conforto nella costruzione dei portafogli è in questo momento la prudenza. In realtà lo è già da un po' di mesi ma continua ad essere la prudenza. Sebbene proprio in queste settimane, in particolare in questi giorni, dove il VIX, quindi l'indice di volatilità implicita, si è riaffacciato oltre i 30 punti percentuali, sarebbe forse il momento di iniziare a costruire nuovamente delle posizioni azionarie se non è stato già fatto e soprattutto se si è avuta la capacità finora di gestire bene la propria liquidità. Detto questo, per quanto da un punto di vista tecnico la volatilità in rialzo aiuti a scegliere dei prodotti di investimento, delle strategie efficaci anche nel medio periodo, mi rendo conto che poi le motività di cui abbiamo parlato anche più volte nei nostri appuntamenti, Emanuele ha ricordo che è stato un po' un fil rouge quello delle motività in questo 2022, ma in realtà se vogliamo anche dal 2020 in avanti, ecco questa porta certamente ad essere più prudenti e quindi benché ci sia la consapevolezza che questi potrebbero essere dei buoni momenti per iniziare a ricostruire delle posizioni, comunque c'è prudenza. Prudenza che porta a far cosa? O a rimanere alla finestra e quindi attendere che arrivi qualche segnale di maggiore fiducia e questa per ora vediamo non ce n'è, o eventualmente qualche soluzione a capitale protetto, quindi dove ci si accontenta di rendimenti che comunque sono in crescita ma non eccezionali rispetto all'azionario, almeno sul medio-lungo periodo, ma si parte almeno dalla consapevolezza di non rimetterci in termini di conto capitale. E quindi ecco questo è un po' quello che viene chiesto, però ci sono delle, per fortuna aggiungo io, dei momenti in cui si inizia a razionalizzare, c'è quella lucidità che aiuta a prendere un po' di coraggio e a iniziare a costruire, quindi ecco che intervengono i certificati con delle opzioni di protezione condizionata, con delle barriere magari un po' più profonde o eventualmente delle strutture che possano essere utili in determinati contesti di mercato. Ad esempio mi viene da pensare al tema del recupero delle minusvalenze, che è qualcosa che indipendentemente dal mercato positivo o negativo, se hai delle minusvalenze generate nel 2018, fra poco scadranno e quindi qualcosa che è importante. Hai detto molte cose interessanti, intanto ancora il tema della protezione che ovviamente adesso andremo ad analizzare attraverso esempi di certificati, questo lo ripetiamo ogni volta e in questo momento più che mai e poi giusto proprio in un flash poi vado da Luca. Pierpaolo hai parlato giustamente del VIX, una domanda proprio tecnica tecnica, è ovviamente uno strumento che dà il sentimento di mercato e viene sempre osservato, tu hai detto che è salito sopra i 30 punti che indica la soglia oltre il quale ovviamente si parla di maggiore volatilità. Gli investitori lo stanno guardando maggiormente in questo momento? È questa la mia domanda. Sì, e devo dire che lo stanno guardando maggiormente da almeno un paio d'anni, ovvero da quando abbiamo iniziato a renderci conto che la volatilità di mercato non è semplicemente quell'indice della paura che si legge sui libri di Tesco o sul quale ci hanno fatto anche qualche serie di bu, ma in realtà è una compagna di viaggio, positiva o negativa che sia, però caratterizza l'andamento di tutti gli investimenti e quindi devo dire che dal 2020 in poi, ovvero da quando con la pandemia il VIX è schizzato a livelli record, diventa un focus particolare per gli investitori, quello di guardare alla volatilità e quindi di capire anche se bisogna muoversi in un modo piuttosto dell'altro. È certo, è certo, esatto, l'indice della paura. Va bene, ma noi non lo chiamiamo così, ricordiamo che ovviamente viene definito così, del resto i mercati li fanno gli uomini, li facciamo noi, quindi ovviamente poi siamo soggetti tutti a scossoni proprio in base a quello che accade. Allora, grazie a Pierpaolo, come dicevo, utilissimo perché sono stati toccati tanti punti fondamentali, vado da Luca, chiedo anche a lui insomma un commento rispetto all'analisi fatta da Pierpaolo e poi cominciamo a portare gli esempi di questa puntata, quindi portare i nostri telespettatori nel concreto. Luca? Sì, io non posso che, come dire, sottoscrivere il quadro che faceva Pierpaolo prima. L'anno del 2022, soprattutto negli ultimi mesi, è caratterizzato ovviamente da una prudenza ad entrare sui mercati azionari, in generale direi, e poi questo si riflette sul mercato dei certificati, soprattutto perché appunto gli investitori sono più inclini a cercare quelle caratteristiche più difensive che i certificati permettono, come ad esempio delle barriere con livelli di protezione più alti e quindi delle barriere più basse, piuttosto che meccanismi come airbag, piuttosto che step down, varie caratteristiche dei certificati che appunto possono rendere la struttura classica, che possiamo definire quella dei cash collect, con una tonalità più difensiva e più prudente all'interno poi di un accesso al mercato equity. E questo sicuramente è il trend. Noi già da qualche mese infatti anche la nostra gamma si è adeguata in questo senso, abbiamo proposto varie soluzioni, una tra tutte i cosiddetti low barrier, dove abbiamo fissato la barriera al 40% quando mediamente si attestava tra il 70 e il 60%, questo quindi per rendere possibile la protezione e il rendimento di questi strumenti anche per discese più profonde dei sottostanti. E poi sicuramente a settembre, questo è storicamente, strutture di tipo maxi cash collect tornano ad essere di moda. Tornano ad essere di moda perché ricordando quello che è poi il trattamento fiscale dei certificati che generano redditi diversi, possono essere degli strumenti interessanti per andare a ottimizzare dal punto di vista fiscale il portafoglio, che poi si traduce in andare a svuotare quell'eventuale zainetto delle minusvalenze, zainetto fiscale che magari ognuno di noi ha all'interno del proprio contotitoli. Ecco che quindi a settembre, dopo le vacanze, ci siamo resi protagonisti sul mercato dei certificati con un'emissione che abbiamo emesso un paio di settimane fa, proprio di dieci certificati di tipo maxi cash collect. Se volete ho portato anche alcune slide. Direi assolutamente di sì, quindi andiamo a vedere, ringrazio anche la regia, certificati di investimento, le proposte del mese, le definiamo un po' così, ovviamente sono esempi che Luca Comunian porta in trasmissione, qui sulle fonti tv poi ricorderemo anche tutti i contatti con Luca, con Pierpaolo per avere una visione un po' più ampia e assolutamente Luca andiamo a vedere quali sono le emissioni che proponete. Sì, come dicevamo, sono dieci certificati di tipo maxi, maxi cash collect. Chi ci segue spesso sa insomma che i cash collect sono una tipologia di certificati quotati sul mercato SEDEX di Borsa Italiana. La loro caratteristica è quella di avere una durata di tre anni e pagare dei coupon periodici, possono essere mensili o trimestrali. In questo caso nelle emissioni in oggetto sono dei coupon trimestrali. La caratteristica poi dei maxi cash collect è quella di avere un primo coupon, il primo pagato in questo caso a novembre 2022, di tipo maxi, cosa vuol dire? Ovvero di una montare maggiore rispetto a tutti i coupon che poi invece vengono pagati successivamente. Quindi è uno strumento, in questo caso abbiamo dieci certificati, funzionano tutti allo stesso modo, quindi definisco un po' quello che è il funzionamento generale e poi andiamo a vedere magari nello specifico le proposte. Sono prodotti a tre anni con un primo maxi premio pagato a novembre 2022. Tra l'altro questo maxi premio è incondizionato. Cosa significa? Che quindi sarà pagato a prescindere dall'andamento di quello che saranno le azioni sottostante il certificato. Il premio è cosiddetto incondizionato. I successivi invece saranno condizionati appunto alla tenuta delle barriere, le barriere sono appunto poste a un livello tra il 60% e il 50% a seconda del certificato e quindi questi premi trimestrali successivi al maxi saranno pagati quando i sottostanti saranno al di sopra di queste barriere. Quindi non verranno violate le barriere e tra l'altro i premi sono dotati di effetto memoria. Cosa significa? Che anche qualora in un momento di mercato volatile, particolarmente negativo, ribassista, ci troviamo in una condizione dove un trimestre la condizione non è soddisfatta e quindi il coupon non è pagato, ecco grazie all'effetto memoria, qualora poi ci sia una normalizzazione dei valori di mercato, possiamo andare a recuperare i coupon non pagati in precedenza. E questa è una caratteristica che ormai sempre è all'interno della nostra emissione di cash collect perché ovviamente rende, se vogliamo, un po' immune quello che è il potenziale di rendimento certificato da tensioni di mercato di breve termine. Sappiamo che, soprattutto in questi anni, abbiamo visto anche quest'anno stesso, ma se ricordiamo marzo, abbiamo avuto dei momenti particolarmente volatili, particolarmente negativi, dove le quotazioni di mercati azionali sono scese in maniera significativa, ma poi c'è sempre spazio per una normalizzazione e questo fa sì che il rendimento dei nostri certificati non sia impattato da questo tipo di dinamiche. Ok. Ebbè, questo è importante, visto che abbiamo fatto tutta la premessa della difficoltà di muoversi nel mercato, quindi questo è un elemento sicuro. Tutto in un contesto. Esatto, Luca. Questo sicuramente, visto che anche prima Pierpaolo ci ha detto un po' cosa stanno guardando gli investitori, indubbiamente questo è un elemento imprescindibile, oserei dire, in questo contesto. Prego. Sì, quindi prodotti a tre anni, coupon trimestrali con il primo maxi incondizionato, come dicevo prima, la protezione a scadenza sarà la classica protezione di un cash collect, quindi qualora le barriere non siano violate, anche in caso di ribassi, ma qualora non siano violate, abbiamo la protezione del capitale. Altro vantaggio del certificato. Ci permette, diciamo, di assorbire una diminuzione di quelle che sono le azioni sottostanti del certificato entro i limiti della barriera e proteggere il nostro capitale. Quando non abbiamo la protezione del capitale, quando questi ribassi delle azioni, adesso qui parlo a scadenza, sono talmente profondi da superare le barriere e in questo caso il meccanismo di protezione viene sostanzialmente annullato e la performance del certificato sarà lineare rispetto a quella che è la performance negativa dei sottostanti. Ma andiamo a vedere le proposte, così possiamo toccare un meno i dieci prodotti di cui vi parlavo. Allora, in questa prima slide abbiamo la proposta, se vogliamo, più prudenziale, perché anche il motivo, Manuela, per cui noi emettiamo dieci prodotti è quello di dare più certificati su più nomi, quindi vedremo come, vediamo già dalla seconda tabella di questa colonna, la seconda, scusate, colonna di questa tabella, i principali nomi, particolarmente focalizzati anche sul mercato italiano questa. E dicevo, l'idea è quella di dare più settori su cui poter investire, ma anche un grado di rischio e rendimento diverso. E lo vedremo poi nella seconda slide dove avremo le proposte più aggressive. Qui invece abbiamo dei panieri di principalmente titoli italiani, ma anche qualche nome europeo, dove si caratterizzano sostanzialmente per un maxipremio che può essere o del 15% o del 16% e premi trimestrali successivi invece, quindi i premi dopo il primo maxi, quelli che andranno a essere pagati trimestralmente, che invece sono nell'ordine tra l'1,10 e l'1,50. Per tutti invece la barriera, sia per il pagamento dei premi trimestrali, sia per la protezione del capitale, è fissata al 60%. Questo vuol dire che quindi vengono assorbiti i ribassi delle azioni circostanti fino al 40% rispetto al loro valore iniziale. Passando alla seconda slide, quindi gli altri cinque prodotti dove andiamo a trovare dei nomi, se vogliamo, che sono caratterizzati da più volatilità. Allo stesso tempo abbiamo creato dei panieri che fossero tematici, possiamo vedere come abbiamo il settore dei pagamenti e del tech, abbiamo il settore del travel, piuttosto che abbiamo anche introdotto un settore che noi chiamiamo delivery, quindi con Amazon, Delivery Hero, Uber, piuttosto che un settore molto interessante in questo momento perché vi vediamo flussi è quello delle energie rinnovabili, Power, Sardan, Veolia. Infine, un po' meno conosciuti, l'ultimo di questa slide, abbiamo tre società impegnate nel settore della cyber security. Magari i nomi delle società sono meno noti, AIP, ma sicuramente il settore della cyber security in questo momento specifico ha di tutto l'attuale interesse, diciamo. E grazie sostanzialmente a quella che è la volatilità maggiore in questo caso di questi titoli, vediamo come il maxipremio oscilla tra il 18, tranne che per l'ultimo prodotto che è il 17%. Quindi qui il maxipremio diventa ancora più grande, 18% pagato a novembre 2022 e anche i premi trimestrali successivi sono più corposi perché vediamo come oltre all'1,50 del primo prodotto poi andiamo a 2,80, 3,50, 4%. Il prodotto che esprime più rendimento potenziale sostanzialmente è quello sulle energie rinnovabili dove abbiamo un maxipremio del 18% a novembre e poi dall'anno prossimo inizierà a pagare 4% a ogni trimestre, quindi un 16% annuale qualora appunto le barriere non siano violate. Da notare anche in questo caso il livello delle barriere che sostanzialmente scendono al 55% o anche al 50%. Quindi abbiamo abbinato sottostanti più volatili che ci riescono a dare barriere più profonde e premi rendimenti più elevati. È chiaro che in questo tipo di soluzioni che hanno dei premi così maggiori rispetto a quelli precedenti è anche in situ sostanzialmente un rischio maggiore, quindi queste sono soluzioni per clienti che sono disposti ad accettare un profilo di rischio rendimento più aggressivo rispetto invece alle soluzioni precedenti. Certo, beh del resto tu effettivamente li hai suddivisi da prima con più o meno volatilità e naturalmente c'è maggior rischio laddove si scegliano dei titoli barra settori che sono maggiormente volatili in questo momento. Però ecco infatti però insomma poi alla base c'è sempre il tema della diversificazione, quindi il fatto che si possa scegliere e si possa fare un mix anche volendo nel portafoglio di investimento. Allora, se sei d'accordo Luca, vado da Pierpaolo subito così sentiamo il suo parere su queste nuove emissioni. Insomma in qualche modo Pierpaolo per semplificare ti chiederei di raccontarci l'utilità, non so se è la parola giusta, di questi prodotti. Sì sì, utilità certamente sono utili perché comunque il problema delle minusvalenze, fin tanto che esiste questo regime di tassazione sulle rendite finanziarie, le minusvalenze si produrranno nei portafogli e non solo per una cattiva gestione, quindi per delle perdite patrimoniali, possono derivare come ben sappiamo anche semplicemente dalla duplice tassazione che esiste sui redditi di capitale, redditi diversi e quindi per cercare di semplificare io credo che qualsiasi consulente finanziario o cliente che è all'ascolto quest'oggi debba comunque prestare attenzione all'utilità, all'utilità di questi strumenti finanziari in particolare i certificati. Poi il fatto che siano dei maxi coupon, lo dice la parola stessa, agevola il compito di recuperare queste minusvalenze perché banalmente se una persona ha 10.000 euro di minusvalenze in scadenza a fine anno sta per perdere un credito di imposta di 2.600 euro che detta in altre parole sta per perdere l'opportunità di rimettersi in tasca 2.600 euro. diciamo che questi certificati grazie al fatto che pagano dei premi così importanti entro l'anno 15-18% consentono anche con investimenti non troppo impegnativi di generare una plusvalenza che va ad abbattere questa minusvalenza. Dopodiché con il proprio intermediario ciascuno verificherà la modalità che viene adottata per la compensazione, adesso senza entrare troppo nei tecnicismi ma rimane il fatto che sono strumenti utili e mi sentirei di dire per certi versi in questa fase dell'anno quasi essenziali. Non è un caso infatti che moltissimi consulenti finanziari si avvicinino ai certificati nella seconda metà dell'anno proprio con l'obiettivo di andare a lavorare sulle minusvalenze. Dopodiché come già detto anche in fase di presentazione delle varie soluzioni ce n'è per chi ha un approccio un po' più prudente, vuole rimanere comunque su un profilo di rischio su titoli magari italiani caratterizzati da una volatilità un po' più bassa e comunque generano un rendimento annualizzato nell'area del 12% oppure spingere magari un po' di più sull'acceleratore con quelli sull'energia alternative in America e questi pagano fino al 24% anno. Quindi poi lì la scelta va in base all'approccio al profilo di rischio. Però rimane il fatto per tutti che non si può a mio avviso fare a meno quanto meno di provarci a recuperarle. Poi se uno ci riesce ben venga, se non ci riesce certo. Ottimo. Allora, ovviamente Luca se vuoi aggiungere qualcosa ti lascio partire da quanto diceva Pierpaolo, ma insomma credo che abbia avuto la funzione di completare la presentazione che ci hai fatto tu e a questo punto se non vuoi aggiungere altro, però ti lascio lo spazio per farlo, andrei a presentare un altro, cioè la proposta, l'altra proposta del mese che ci porta a parlare di un trend che indubbiamente influenzerà molto i mercati e le nostre vite negli anni a venire, parliamo del metaverso, di cui si parla tantissimo e magari in alcuni casi non nel giusto modo, ma insomma perché oggi ne parliamo? Sì, allora nulla da aggiungere riguardo a quanto diceva Pierpaolo prima, ovviamente poi qui è difficile magari andare nei tecnicismi di come viene calcolata la situazione e tutto quanto, però ovviamente poi lasceremo i nostri dettagli così per qualsiasi cosa saremo a disposizione. E per quanto invece riguarda la seconda domanda, ritornerei un attimo al punto di partenza, cioè noi partiamo dall'assumption di una, sostanzialmente di una incertezza di breve termine e quindi nella nostra ottica l'idea è quella di portare nel prodotto, nel mercato alcune soluzioni che possano essere interessanti e che possano in qualche maniera andare a soddisfare quelle che sono le esigenze degli investitori, dei clienti finali. Ecco, un'altra idea che abbiamo lanciato recentemente sul mercato è stata proprio quella di permettere agli investitori di esporsi sul lungo termine, quindi di andare a superare quella che è l'incertezza attuale attraverso un'esposizione di medio e lungo termine a cosa? A dei settori che possono diventare in qualche maniera dei megatrend. E quindi a dei trend, abbiamo sentito parlare molto di climate change ovviamente, di tutto quello che è la tecnologia, la cyber security, del metaverso appunto che è il focus di quest'oggi, ma sostanzialmente sappiamo come il mondo in qualche maniera sta cambiando, sta cambiando sulla base di alcuni pilastri se vogliamo dire e che quindi questi settori in qualche maniera saranno interessati da investimenti, da sviluppi, anche da se vogliamo una generazione di nuovi mercati e di nuovi ovviamente pool di risorse che verranno poi generate da questi settori. Ecco questa è l'idea di fondo, quindi creare un certificato che possa esporre i clienti a dei megatrend. Lo riassumerei così il nostro tracker certificate sul metaverso. Tra l'altro noi abbiamo emesso tracker certificate già da inizio anno, l'abbiamo fatto come vi dicevo prima su delle tematiche. Adesso andiamo a vedere l'ultimo che è il metaverso, ma prima avevamo anche lanciato, vedete nel mio schermo, le energie rinnovabili. Ah beh certo, infatti guarda Luca hai fatto benissimo, mostriamole perché non a caso ho parlato del metaverso, ho anticipato quello, ma ho parlato di un trend tra i tanti che andranno a influenzare le nostre vite da qui agli anni futuri, insomma, quindi non è l'unico ovviamente il metaverso, anche tutte le cose che stai citando tu. Sì, infatti noi avevamo già presentato le tecnologie, piuttosto che appunto la gestione dei rifiuti, interessante, e poi un po' dei cavalli di battaglia di BNP Paribas, anche del nostro asset management, che è l'acqua. Un asset che sembra così comune tra tutti noi che non sembra neanche un asset investibile, invece è una risorsa che è sempre più scarsa e che quindi ci sono una serie di società che lavorano appunto nel mondo dell'acqua, nel farci arrivare l'acqua nelle nostre case, bere l'acqua, piuttosto che gestire le acque poi invece che vanno rigenerate. Ecco, anche qui abbiamo lanciato un tracker su appunto questo tipo di asset e infine arrivo al nostro metaverso. Un mercato che se ne parla molto, un sviluppo del settore che è previsto in doppia cifra, al 50% addirittura di anno in anno, fino ad arrivare a qualche svariato centinaia di miliardi di revenues stimate per il 2030. Quindi, senza soffermarci però su cos'è il metaverso, perché sicuramente non sono la persona migliore per farlo e non ne abbiamo il tempo, volevo focalizzarmi su quello che è la nostra soluzione di investimento. Come dicevo prima, è un tracker certificate, quindi di nuovo partiamo da un certificato quotato su Borsa Italiana, quindi acquistabile attraverso l'ISIN code che poi faremo vedere, che sostanzialmente è di tipo tracker. Cosa significa? Tracker è il certificato nella sua forma più semplice, perché semplicemente va a replicare l'andamento, che sia positivo o negativo, di un sottostante. Quindi il certificato sostanzialmente non ha nessuna opzionalità, non ha nessun premio trimestrale, non ha nessuna barriera, ma va, come altri strumenti fanno ad esempio gli IDF, va a replicare quello che è l'andamento positivo o negativo di un sottostante. E allora qual è il sottostante? Noi abbiamo cercato di trovare il sottostante che meglio potesse rappresentare quello che può essere lo sviluppo del settore del metaverso. E l'abbiamo fatto attraverso un indice, l'indice è di Bloomberg e si chiama Bloomberg Metaverse Net Return Index. Al di là del nome, diciamo che la cosa importante è che è un indice fatto da Bloomberg e soprattutto che Bloomberg ha una divisione che si chiama Bloomberg Intelligence, che raggruppa 400 analisti e grazie anche al database. Sappiamo Bloomberg essere uno dei data provider finanziari più grandi al mondo, sostanzialmente questa divisione di Bloomberg usa i dati dei propri database e li mette a disposizione di questi 400 analisti che vanno in qualche maniera a trovare quello che può essere un universo di aziende investibili all'interno del settore del metaverso, quelle che sono quindi le società che più sono coinvolte nel metaverso e che in qualche maniera o sono grandi magari, grandi società di cui conosciamo i nomi e che hanno un settore, una divisione che va a investire nel metaverso, magari sono anche società nuove mai viste prima che nascono grazie al nascere di questo settore appunto. Ecco, l'indice appunto usa questa expertise, applica ovviamente i vari filtri che spesso si vedono negli indici come quello della liquidità, l'azione deve essere ovviamente liquida, deve essere quotata eccetera eccetera, ma al tempo stesso poi l'altra cosa molto importante qual è? Va a ribilanciare, quindi va a rivedere queste componenti una volta ogni tre mesi e questo secondo me è fondamentale perché se parliamo di un settore che è in crescita e che vedrà anche nascere nuove aziende, è importante che le componenti di questo indice vengano riviste di volta in volta proprio per andare a inserire o a togliere quelle società che magari sono nate o sono morte all'interno del settore. Certo. Indice che investe i dividendi netti e chiudo dicendo appunto che questa è la pagina che vi sto mostrando, è la pagina del nostro sito web dove possiamo andare a vedere insomma a scoprire tutte le informazioni che vi sto dicendo e scaricare la brochure piuttosto che andare proprio alla pagina ufficiale dell'indice che è la pagina appunto Bloomberg dove possiamo trovare tutte le informazioni che non troviamo sul nostro sito. Ok, allora Pierpaolo abbiamo sentito insomma trend in crescita, le rinnovabili, l'acqua, l'acqua per esempio qualcuno la definisce anche il nuovo petrolio ma insomma proprio per la crescita che sta avendo anche nel mercato e metaverso. Chiedo a te Pierpaolo come giudichi insomma queste nuove possibilità, definiamole così e poi ci avviamo alle conclusioni. Prego Pierpaolo. I megatrend sono evidentemente dei temi che in un portafoglio diversificato ci devono stare, dopodiché ciascuno può decidere se cominciare a seguirli con un ETF, con un fondo specializzato, comprando direttamente delle azioni o in questo caso avvalersi di certificati. Io naturalmente studiando maggiormente le caratteristiche dei certificati posso sottolineare come in questo caso ci sia una serie di vantaggi tra in primis, riagganciandomi a quanto abbiamo detto poc'anzi a proposito della fiscalità, ricordiamo che questi sono strumenti che generano redditi diversi, che vuol dire che un'eventuale plusvalenza generata nel corso del tempo in accumulazione sul tracker diventa una plusvalenza utile per compensare eventuali minusvalenze, cosa che ad esempio non può avvenire con gli ETF o con i fondi. E questo credo che sia un aspetto comunque rilevante. Il secondo è lasciare a chi sa fare questo lavoro e quindi la ricerca, in questo caso di Bloomberg, nella costruzione dell'indice il compito di scegliere le aziende maggiormente indicate per seguire quel tema e quindi in questo caso oggi ad esempio c'è un reprising molto forte in atto su tutto il settore delle tecnologici in virtù anche di un dollaro molto forte, però in realtà come Apple piuttosto che come Meta o ancora Tencent sono comunque in realtà destinate a rimanere sul mercato e a rimanerci anche in maniera considerevole. Quindi inserire in portafoglio una parte di un certificato come questo aiuta a seguire determinati trend. E vorrei lasciarti con uno spunto, mentre quando parliamo di certificati con barriera e sono il tema predominante di questi appuntamenti, quindi mentre quando parliamo di certificati con barriera tipicamente non si pensa ad una logica di accumulo, di piano d'accumulo, il cosiddetto PAC, perché individui il momento, cerchi di comprare puntando sulla tenuta di una barriera, però i prezzi non sono lineari, cioè vuol dire che risentono della volatilità, ci sono una serie di dinamiche legate anche al fattore tempo. Qui invece è uno strumento senza scadenza, quindi uno potrebbe anche pensare di costruirci un piano di accumulo. Se pensa che oggi il mercato stia scontando una correzione importante ma che potrebbe ancora scendere, magari perché no? Inizierà ad accumularlo mezzo al mese. Questo è un ottimo suggerimento, insomma, anche pensare proprio nel lungo periodo, visto che le situazioni cambiano e il mercato è caratterizzato da volatilità, l'abbiamo detto in apertura, così vedete che con un movimento circolare ci riportiamo alle premesse che fanno anche da conclusione. Siamo appunto in conclusione. Luca, ricorda i vostri riferimenti, come fare per approfondire tutti questi temi, insomma, e altri, non solo questi. Poi ogni mese noi ci ritroviamo sempre qui, ovviamente. Sì, ecco, direi che la cosa principale da tenere a mente e da segnare è il nostro sito, che è investimenti.bmpparibas.it dove sostanzialmente abbiamo tutti i nostri certificati, tutte le nuove emissioni, abbiamo il capitolo prodotti di investimento qui, dove possiamo ritrovare sia i tracker certificates che abbiamo discusso prima, i cash collect, tutti i tipi, compreso i maxi, ovviamente, e così via. Questo è il nostro sito, all'interno del sito stesso poi possono essere trovati i nostri riferimenti. Quindi, numero verde, rispendiamo direttamente il nostro desk qui da Milano, e anche l'email investimenti.bmpparibas.com. Quindi, questi sono i nostri riferimenti principali, il nostro sito è assolutamente indispensabile per vedere quelle che sono anche le quotazioni in real time, denaro, lettera, certificati, la documentazione, sia legale che di marketing, il kid dei prodotti, e quindi sicuramente è una base di lavoro per chi vuole interessarsi ai nostri prodotti. Certo, e poi c'è il manuale umano, che è Pierpaolo Scandurra e certificati e derivati, vero Pierpaolo? Insomma, ti ho definito così, mi sono presa questa licenza poetica. Naturalmente ti ringrazio, insomma, diciamo che ormai ho visto nascere e crescere questo mercato. E appunto, appunto, per quello parlato di manuale, insomma. Sì, diciamo certificati e derivati.it, riferimento da sempre indipendente, pertanto chi volesse approfondire tutto il mondo dei certificati, naturalmente può accedere direttamente al nostro sito. Va bene, allora grazie come sempre a Pierpaolo Scandurra, appunto, certificati e derivati, grazie a Luca Comunian, di Submission Cell di BMP Paribas, e tutta BMP Paribas per la collaborazione preziosa, e alla prossima puntata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi per averci seguiti sulle fonti TV, continuate a stare con noi, buon proseguimento. In collaborazione con Grazie a tutti.